Ciao ragazze, ciao! Allora, questa settimana non sono riuscita a caricarvi un video, in realtà oggi è sabato, oggi è sabato 12 e la settimana scorsa io ho girato dei filmati, ma praticamente questa settimana non sono riuscita, all'inizio della settimana, a caricarli dopodiché il mio pc si è preso uno di quei virus proprio malefici per cui ho dovuto proprio formatarlo a zero non c'è stata nessuna possibilità di ripristinare la versione precedente del sistema operativo, niente cioè mi hanno andato proprio a toccare dei file del sistema operativo che insomma non sono riuscita proprio a ripulirlo in maniera definitiva quindi ho dovuto formatare il pc e sto ancora cercando di sistemare, oggi però a casa ho provato appunto a caricare questo filmato che è da domenica, che dovevo caricarvi in più oggi un'altra bella sorpresa, perché la settimana scorsa avevo girato anche un altro filmato su due o tre creazioni che avevo completato, ve li volevo far vedere, erano tre cabochon, tre cameo, due cameo, un cabochon, adesso non ricordo perfettamente comunque volevo far vedere come li avevo originiti e mi mancava solamente diciamo una sorta di presentazione come faccio sempre io nei miei filmati quindi niente, oggi sono andata ad aprire la telecamera e non funziona infatti vedrete che questa è una telecamera diversa sto sfruttando una telecamera del pc però mi dispiace perché effettivamente i filmati con l'altra vengono meglio va bene, comunque questa voleva essere solo una presentazione di questo filmato che riguarderà esattamente come un rifinito tre cabochon due cameo, cioè l'incastonatura è molto semplice, ve l'avevo già fatta vedere, mi mancava proprio il laccetto, la collanina così e appunto niente, vi faccio vedere quello che ho fatto e poi anche, non so se vi ricordate quelle pietre, quelle di madre perra tutte macchiate, tipo lunari, che avevo acquistato, che l'avevo anche quella incastonata avevo fatto un bel medaglione e non sapevo come rifinirla comunque l'ho rifinito in maniera molto semplice e quindi io ve le presento e vi saluto, spero vi piacciano oggi vi faccio anche un altro filmato, tutorial a presto Grazie Grazie Grazie